Si accomodi pure. La indossi. Mi dia pure gli occhiali. Conferma che non può vedere nulla. Faccio accendolo con la testa, se sì. Perfetto. Ah, e ovviamente io e lei non ci siamo mai visti prima. Ok. Avete mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarvi vero? Sì. E se da un sogno così non doveste più svegliarvi, come potreste distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà? Finora ho parlato di sensazioni, emozioni, sentir toccare o percepire qualcosa. Ma questa è un'altra storia. Ma questa è un sogno. Ma questa è un sogno. Ma questa è un sogno. E tu e le clavore? Oh, grazie. Oh, no, no, no. Grazie. Sente qualcosa? Rose? Come scusi? Sento il profumo di rose. Ah, grazie. Oh, 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 grazie a tutti. Oh, grazie a tutti. Oh, grazie a tutti. È stato un vero piacere essere qua con voi. Oh, grazie a tutti. Oh, grazie a tutti. Oh, grazie a tutti. Grazie a tutti